Usa-chan! Usa-chan! Mammo-chan! Buongiorno, Usa-chan! Come le vuoi, le uova? Sode? All'occhio di bue? O meglio un omelette? Omelette! Arriva! Ma forse il mio è stato solo un sogno. Usa-chan, ho fatto anche i toast stamattina. La vuoi, la marmellata? Sì, certo che voglio la marmellata, al limone! Oh, cavolo, ho i compiti di matematica! Usa-chan! Tranquilla, li ho fatti io al posto tuo. E già che c'ero, ti ho sistemato tutti i libri nello zaino. Forse è questo un sogno? Sono così felice. Ho sempre sognato che tu venissi a vivere con me e di andare a scuola ogni mattina mano nella mano. E finalmente il mio sogno si è avverato. Cosa? Quando è successo? Lo sai? Il mio desiderio più grande è che tutti i tuoi sogni possano avverarsi. Usa-chan, tu non devi fare niente, capito? Penso io a tutto, non ti devi preoccupare. Mammo-chan è sempre stato così dolce. Di solito è molto più freddo e severo. E non avrebbe mai fatto i compiti al posto mio. Mammo-chan, il tuo sogno non era quello di diventare un bravo medico? Il mio unico e grande sogno è quello di sposarti. Il tuo invece qual è? Il mio, dici? Il mio sogno è... Usa.